Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha posto sotto sequestro una storica emittente radiofonica di Angri, risultata sprovvista di ogni tipo di autorizzazione di licenza della SIAE necessaria per trasmettere via radio e web di qualsiasi contenuto audiovisivo. I finanzieri della compagnia di Scafati, nell'ambito di un servizio finalizzato alla tutela del diritto d'autore, hanno infatti scoperto che l'emittente radiofonica da oltre vent'anni operava ad Angri, con grandi ascolti in campagna, riproduceva sulla frequenza locale file audio scaricati illegalmente. Considerato che al momento dell'accesso presso la sede amministrativa la stazione radio era in onda e in diretta, le fiamme gialle ne hanno bloccato l'attività e proceduto al sequestro d'iniziativa di tutte le apparecchiature in uso, tra cui i computer e i supporti esterni utilizzati per la memorizzazione dei brani musicali illecitamente riprodotti. Il provvedimento cautelare d'urgenza è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari in sede e questa Procura della Repubblica, dottor Davide Palmieri, ne ha curato la successiva esecuzione. Il responsabile dell'emittente denunciato a piede libero per aver violato la legge speciale che tutela il diritto d'autore rischi adesso una condanna fino a 4 anni di reclusione e una multa sino a 15.000 euro.